Quindi, autobiografia di Gianni Berengo Gardini. Ma ha scritto Susanna, quindi? Sì. C'è tutto di tutto della tua vita? Tutto, da quel bambino fino ad adesso. E beh, tra vent'anni devi scrivere un altro, credo. Tra trent'anni. Trent'anni. La settimana prossima vai sull'elicottero a fotografare il ponte di Genova. Il mio amico Renzo Piano. Quindi hai accettato questo incarico di lavoro. Ma tu non hai paura di andare su? No. E poi devo andare a Venezia, perché stanno girando un documentario alla RAE su di me. Dunque ne abbiamo otto oggi. Nove. Nove. Questa è un libro editato da Contrasto, giusto? Sì. È tutta la mia vita, da quando sono nato fino ad adesso. Grazie, grazie. 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 Grazie.